Dai gusti più curiosi come quello alla torta a sette veli a quelli più classici come la crema della nonna, passando per un contest che decreterà il miglior gelato locale al gusto nocciola. Tutto questo è il festival del gelato tipico italiano a Rezzo, per due giorni la capitale del gelato, con una dedica del tutto speciale a Piero della Francesca. Manifestazione nuova, molto particolare, che riguarda un'eccellenza della nostra bella Italia, quindi il gelato è un nostro patrimonio, è un'attività anche per far conoscere i gusti particolari delle nostre gelaterie locali. Io ne ho mangiati stamani un paio veramente particolari, quindi è anche un sistema per promuovere le gelaterie locali. E che stanno le gelaterie locali il protagonista di questa manifestazione? Sì, tra l'altro oggi pomeriggio c'è anche un concorso particolare sul gelato alla nocciola, hanno voluto dedicare all'acetta anche un gusto. Allora, la nocciola è uno dei prodotti tipici italiani, bene o male voglio sapere anche il gusto di nocciola, gli aretini come lo sanno fare, quindi verrà assaggiato dai nostri maestri nazionali, quindi per premiare il primo classificato al gusto della nocciola. Abbiamo anche le altre curiosità, gusti curiosi? Abbiamo ottimo sette veli, che sono sette tipi di gelato, abbiamo un buon gelato di gelso, poi gusti classici, crema dalla nonna, un gusto particolare mango e lime, dell'ottima mandorla, quindi ci sono per tutte le prelibatezze. Grazie. Grazie. Grazie.